Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla FIPILI ancora per traffico intenso in direzione Firenze ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sulla A1 l'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto a un impianto. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze proseguono i lavori di rinnovo della rete idrica di via Bolognese fino al 16 luglio strada chiusa tra via della Pietra e via di Montughi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!